Perché in un contesto come quello attuale di profonda trasformazione in cui le tecnologie e i modelli di business che essi abilitano continuano a cambiare, la sfida per l'imprenditore del canale ICT deve essere quella di essere in grado di cavalcare questa trasformazione, ma per farlo serve comprendere il mercato, serve mettersi in casa asset e competenze necessarie, serve saper mettere a terra tutto questo in modo efficiente ed efficace. Ecco, a Day4Trade cercheremo di raccontarvi come con un approccio aperto e orientato all'ecosistema sia possibile accelerare il proprio processo di trasformazione e giocarsi al meglio a proprio partito sul mercato. Quindi vi aspettiamo il 9 febbraio.